L'articolo del giorno oggi, direi per farvi bene lievitare l'incazzatura, è un articolo nel quale si descrive il settore dei magistrati militari. Solo 60 cause all'anno, perché appena un procedimento su 10, poi c'è un rivio a giudizio dei circa 600 che sono di competenza della giustizia militare. Sono 48 i magistrati che si occupano della giustizia e gli arrivano più o meno 60 cause in media ogni anno. Cioè al di sotto il 10% è quello che dovrebbe essere il carico minimo medio. E quindi cosa volete che vi dica? Questi 58 magistrati, poi ce ne sono pure 10 fuori ruolo che sono distaccati con incarichi governativi che guadagnano tutto quello che guadagnano. Ricordo a tutti il progresso automatico delle retribuzioni che c'è solo in Italia ovviamente per i magistrati e loro hanno una causa a testa per tutto l'anno e viene descritto da Anna Maria Greco questo comparto della pubblica amministrazione italiana nella quale sarebbe più che necessario affondare il coltello per esigenze di risparmio ma anche per esigenze equitative. Lo trovate sul giornale a pagina 6.